E diamo il benvenuto a Sergio Flegar, ex dipendente della società Tripkovic per 30 anni e oggi con noi come autore del volume Tripkovic, raccolta di memorie di una famiglia e di un'azienda, edito da luglio. Buon pomeriggio e benvenuto. Grazie, grazie. Sergio Flegar, un lavoro questo ricco, ricchissimo di documentazione, lo vedremo nel corso di questa puntata, documentazione anche inedita che ripercorre le tappe di questa celebre realtà adriatica. Si potrebbe partire proprio dalla sua fondazione, ma prima ancora, forse, partiamo dalla nascita di questo volume e andando ancora più indietro, alla nascita dell'intreccio storico fra la famiglia Flegar e la Tripkovic. Allora, diciamo che sono stato assunto in Tripkovic perché mio padre era ben voluto dalla direzione e quindi per me è stato facile essere assunto alla Tripkovic. Non solo, ma dopo quattro anni di agenzia marittima sono diventato vice direttore e poi quando il nostro direttore anziano se n'è andato io ho preso il suo posto. Ho fatto 15 anni di dirigenza, diciamo che per me quella era una famiglia, era veramente una famiglia. Gli uomini, quando io sono andato a lavorare, c'erano dei direttori anziani che avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale, qualcuno anche di più, tipo il barone Goffredo de Banfield che era nato nel 1890, quindi aveva visto anche la Prima Guerra Mondiale ed era diventato un eroe per parte dell'Austria. Diciamo che sono stato accolto come se fosse un figlio e questa sensazione di essere in famiglia si è perpetuata nel tempo fino purtroppo al falimento avvenuto nel 1994 della società, ma quella è un'altra storia. Certo, certamente. Quindi lei entra nel 1967 nell'azienda Tripkovic e il suo padre prima di lei era dipendente di questa azienda. Vogliamo ripercorrere anche la sua storia partendo anche dalle origini di suo padre che poi sono anche le sue. Mio padre è nato nel 1914 sotto l'Austria, nel 1918 è arrivata l'Italia. Mi raccontava che avevano messo l'officina e anche la mensa dei militari proprio a casa nostra, sotto casa nostra, nel paese nostro di Moncrelvo. Diciamo che papà poi ha fatto le scuole elementari in italiano. Lui era di madrelingua croata come anche mia madre. Diciamo che lì il paese era formato da 550 abitanti. 50 erano italiani e 500 erano, diciamo, croati. Praticamente erano tutti, diciamo, contadini, ecco, agricoltori. Papà a un certo punto è andato militare, lo hanno mandato come lo gloto a Reggio Calabria. Quindi ha visto un mondo, ha visto navi passare, ha fatto un'esperienza di vita notevole. Quando è ritornato non voleva più fare il contadino, ma voleva invece navigare. Quindi diciamo che nel 1940 ha chiesto al Tripkovic di essere assunto, è partito come mozzo e dopo 40 anni, prima dei 40 anni, è diventato nostro uomo. E, diciamo, ha percorso una sua carriera, diciamo, che è stata soddisfacente. Si è fatto benvolere da tutti. Questo è stato il motivo per cui sono stato assunto anche io, ecco. Quindi Francesco Flegger, suo padre, nato nel 1914 a Moncalvo di Pisino, può essere un esempio di una delle tante storie di persone che in queste regioni, in queste zone, sono entrate nella storia dell'azienda Tripkovic. Un'azienda alla quale lei ha dedicato questo volume, lo ricordiamo per chi si collegasse in questo momento, Tripkovic, raccolta di memorie di una famiglia e di un'azienda per luglio, editore. Ecco, partiamo proprio dall'inizio di questa raccolta, di questa ricerca di documenti per realizzare il libro. Un libro del quale poi spiegheremo molti aspetti nel corso della puntata. Lei, dopo 30 anni di lavoro nella società Tripkovic, nell'azienda Tripkovic, decide di costruire, di ricostruire la sua storia attraverso dei documenti. Sì, quando a un certo punto c'era da bonificare le soffitte, sono andato a vedere quello che c'era e ce ne erano tonnellate di documenti. Dico tonnellate perché a un certo punto il tergesteo aveva preso fuoco e molti di quei documenti sono andati perduti, ma non perché sono stati bruciati, ma perché sono stati mandati all'ammasso. Erano stati ritenuti non interessanti. Ecco, io ho trovato invece qualcosa così più interessante, l'ho messa da parte e ho detto che sarebbe bello che questo qua venisse divulgato, anche perché erano delle cose storiche. Mi hanno molto emozionato anche. C'erano delle lettere molto personali. Ho trovato lettere personali anche della famiglia, dei vari direttori, dei vari proprietari della società. Per cui, leggendole, veramente si legge parte della storia della Trieste dell'inizio secolo. Per cui dalle soffitte dell'attuale edificio del tergesteo, dalle soffitte della sede della Tripkovic trova i documenti, documenti che le permettono con un lungo lavoro di arrivare a questo libro. Sì, e diciamo questo, quando io ho mostrato questo mio primo lavoro, questa mia prima bozza alla baronessa Maria Luisa de Banfil, sorella di Raffaello, lei era molto entusiasta perché molte cose non le sapeva. E allora mi ha detto, ah che bello, che bello, sì scrivi, scrivi, poi vediamo se pubblicheremo o meno. Quindi ho cominciato a scrivere, ho cominciato ad avere una corrispondenza con lei. Lei mi ha dato i diari della nonna Ermene Gilda, Balsani Pozza, che era la moglie di Diodato Tripkovic. Mi ha dato queste agendine minuscole che io ho dovuto decifrare con un tanto di lente. e diciamo lì ho trovato degli spunti che poi ho inserito nel libro perché mi sembravano simpatici anche alcuni. Ecco, erano delle sue elucubrazioni sullo stato dell'arte, della politica, sui figli, sui rapporti umani. Diciamo che a quell'epoca visevano tra le famiglie di un certo tipo a Trieste. Questo l'ho trovato molto divertente e nello stesso tempo anche storicamente valido. Certo. Per cui, sì, per cui ho cercato di raccogliere quello che mi sembrava che potesse essere oggetto di un bel libro. Per cui non solo la storia di un'azienda, la storia delle sue attività, della sua nascita, della sua espansione, ma anche la storia della vita dietro all'azienda. La vita della famiglia Tripkovic, della famiglia De Banfield dagli inizi fino praticamente alla conclusione della storia aziendale. La Maria Luisa purtroppo è morta adesso poco tempo fa, nel 2019, però ho parlato con i figli e i figli molto gentilmente mi hanno praticamente dato ulteriore documentazione. Mi hanno dato tutto l'archivio fotografico di Goffredo De Banfield, era molto interessante. Purtroppo il libro già di per sé ha più di 400 pagine, quindi diciamo che ho potuto mettere solo quelle che mi sembravano forse più interessanti come foto. Certo. Ecco, però potevo farne uno da 800 pagine per tutta la documentazione che ho trovato. Ricordiamo prima di un breve intermezzo musicale che farà da introduzione all'approfondimento del volume, ricordiamo Sergio Flegar l'importanza della sede, il tergesteo. Si parla di un palazzo storico della città di Trieste in Piazza della Borsa, anzi che divide quasi due piazze. Piazza della Borsa dalla Piazza Antistante al Teatro Verdi, una sede fondamentale, centralissima e prestigiosa. Certo, certo. Il tergesteo era la nostra sede. Avevamo tutto il primo piano, avevamo praticamente due uscite. Entravamo da via in Audi e uscivamo da via del teatro. Lì eravamo sia noi che l'agenzia marittima Tripkovic, perché la Tripkovic aveva due società. L'agenzia marittima è stata fondata nel 1895, mentre la società dei rimorchiatori, società di Tripkovic, società di navigazione per azioni, era stata fondata nel 1912. Per cui queste due società convivevano negli stessi ambienti e diciamo che non c'era una logica di disposizione. Io ero vicino a uno che faceva un lavoro totalmente diverso dal mio, però ci si sentiva veramente in famiglia. Quindi è una realtà sfaccettata anche quella dell'azienda Tripkovic, agenzia marittima, società di navigazione storica con questa sede nel cuore di Trieste. Non solo, ma l'agenzia marittima è tuttora esistente, perché era di proprietà di Raffaello De Banffi. Quando Raffaello è fallito, personalmente, l'agenzia è stata venduta. L'hanno acquistata quattro dirigenti, tra cui anche io, devo dire la verità, ero uno dei quattro. E poi è stata venduta a un dirigente unico che si chiama Giuseppe Fortini, che attualmente la gestisce assieme ai suoi due figli. Sergio Flegar, tra poco, grazie al suo libro Tripkovic, raccolta di memoria di una famiglia e di un'azienda, entreremo nella storia appunto di questa azienda. Scopriremo la sua nascita e il suo sviluppo, grazie alle persone che l'hanno fatta grande, partendo da Diodato Tripkovic e per continuare fino ai giorni nostri. A tra poco. Sempre a sconfinamenti, assieme a Sergio Flegar e al volume Tripkovic, raccolta di memoria di una famiglia e di un'azienda, edito da luglio. Sergio Flegar, andiamo agli albori dell'azienda, della società di navigazione, società marittima Tripkovic, partendo dal suo fondatore, ma anche dalle origini del suo fondatore, Diodato Tripkovic. Diodato è nato a Dobrota, cittadina situata nelle bocche di Cataro, nel settembre del 1862. Ebbe tre sorelle e due fratelli. Le sorelle Anna si sposò con Marco Cebalo, capitano marittimo, Nina sposò Tripkovic, agente marittimo, e Maria scomparve, presumo, in un naufragio. Di questa Maria nessuno sapeva nulla, però io ho trovato una lettera molto bella, la prima lettera in allegato, che ripercorre un attimino i primi passi di Diodato. Quindi nasce a Dobrota, sulle bocche di Cataro, con una famiglia Tripkovic, vecchia famiglia di capitani ed armatori di navi a vela, si legge sul libro. Certo, certo, certo. Sì, i primi sei anni li trascorse a Dobrota, accudito dalla nonna Agnese, perché il padre viveva a Trieste in attesa sempre di qualche imbarco. Tutti facevano capo a Trieste, quei dalmati, eccetera. A Trieste fece la scuola nautica e nel 1882 ottenne la qualifica di tenente della Marina Mercantile. Poi nel 1885 quella di capitano mercantile di lungo corso. Si imbarcò sulle navi del Lloyd, aiutato in questo da un amico di suo padre. Nel 1891 si sposò con Ermene Gilda Balsani Pozza, nata nel 1870, e continuò a navigare fino al 1892, quando per una brutta bronchite si dimissiona un'opera malattia. Nel 1892 si mise in società con Matteo Pollici, dal quale poi si ritirò nel 1894, perché diciamo non andavano molto d'accordo. Nel 1895 fondò la sua prima vera società, che era l'Agenzia Mariettima Tripkovic, che è attualmente ancora esistente. In un primo tempo si accordò poi con Lorenzo Kosovic per spartirsi vicendevolmente gli utili prodotti dalle due società, la sua e quella di Kosovic. In seguito alla morte del Kosovic ereditò non solo i suoi affari, ma anche la bandiera della società, la famosa bandiera con la S ancora A. Quindi diciamo, amava dire Goffredo de Baffel, diceva sempre ancora avanti. Qualcuno più malizioso invece diceva sempre ancora Austria, prendendo un po' in giro il barone. Certo. La società Arcadia era il nome della prima nave, quindi SA significava società Arcadia. Arcadia. Ecco, era il nome della prima nave gestita dal Kosovic e da Diodato, quando era ancora alla dipendenza dell'Oido Austriaco, e svolgeva il traffico mercantile lungo le coste dell'Istria e della Dalmatia. Poi diciamo che nel 1893 nacque il figlio Mario, che poi divenne presidente delle generali. Nel 1897 nacque Maria e nel 1901 il terzo figlio Oliviero. Mario sposò nel 1917 un'ebrea, Silvia Mordo. Il padre di questa signorina si uccise per la disperazione che la figlia non avesse sposato un ebreo. E il matrimonio, diciamo le carte per il matrimonio, gliele predispose James Joyce a Zurigo, quando James Joyce era andato via da Trieste per andare ad abitare in Svizzera. erano amici perché James Joyce era il loro professore di inglese, quindi frequentava Villa Trivkovic, eccetera. Questo Mario ebbe una figlia, Maria, che si sposò con Orsino Orsimangeli. E anche qui nel 1941, Orsino Orsimangeli che era proprietario di una scuderia di cavalli e soprattutto della Omsa, Orsimangeli Società Acomandita. Ecco, quello è il... che facevano calze a rete, le prime calze a rete nel dopoguerra per le signore. Maria invece sposò Goffredo de Banfield a Londra nel 1921. Si sposò a Londra perché Goffredo fu cacciato da Trieste dopo la Prima Guerra Mondiale era un amico in pace, nemico in guerra, insomma. Nel 1922 a Newcastle on Time nacque Raffaello e nel 1927 Maria Luisa che si sposò nel 1953 con Guido Monsters che era proprietario dell'anificio di Somma. le famose coperte di Somma erano proprietari di questo Guido Monsters. Raffaello invece si era sposato in tarda età nell'86 con Graziella Brandolini D'Adda dalla quale si separò nel 2005. Ecco, Oliviero invece, il terzo figlio, si sposò a New York con Elizabeth Crispin e in seguito probabilmente Bigamo con Lucia e Christensen. Non ebbe figli. Oliviero era uno spirito libero, indipendente. Lui faceva una vita a parte, faceva finta di lavorare ma in realtà di lavoro non gli piaceva. Gli piaceva molto divertirsi, suonare il pianoforte, dicono che suonasse magnificamente. diciamo fece una vita un po' da scapolone pur essendo sposato due volte. Quindi questo è il panorama della famiglia Tripkovic. Vediamo comparire a un certo punto anche il matrimonio tra Maria Tripkovic e Goffredo de Banfield, avviatore, storico avviatore e asso dell'aviazione asburgica durante la prima guerra mondiale. In tutto questo scorre un secolo, più di un secolo di storia. L'azienda, che realtà diventa da quando viene fondata nel 1895 l'agenzia marittima Tripkovic da Diodato Tripkovic? Quali sono i passaggi che accompagnano questa storia familiare alla storia aziendale? Diciamo che Diodato Tripkovic ebbe un'intuizione. Lui facendo l'agente marittimo fece addirittura il sensale praticamente lui per ogni nave che noleggiava o comperava otteneva una commissione. Quindi lui per ogni nave, pensi un po' quanto valevano le navi con la costruzione di una nave, su ogni costruzione lui riceveva una percentuale che poteva essere del 5, del 10 eccetera. Per quanto riguarda poi la gestione della nave, tutto quello che la nave aveva bisogno dal personale al vivande, proviste di bordo, mezzi di bordo eccetera su tutto quanto lui riceveva commissioni. Quindi se la nave produceva utili i carattisti che erano i proprietari delle navi ricevevano gli utili che quella nave aveva prodotto. Se invece la nave non produceva utili lui comunque prendeva la commissione su tutto quello che riguardava la vita della nave. Ecco, è stato diciamo abbastanza furbo in questo. E ha creato ovviamente con tutte le navi che ha avuto ha creato un piccolo impero che poi purtroppo si è sfasciato dopo il falimento. È un impero che attraversa il Novecento, lo chiamano secolo breve anche, caratterizzato da due guerre mondiali. Come vive, come sopravvive anche l'azienda attraverso queste due guerre mondiali? Attraverso un passaggio per esempio di bandiera, da quella sburgica a quella italiana. Si faceva riferimento poco fa alla sigla SSA che per SAA con l'ancora in mezzo che poteva essere interpretato scherzosamente come sempre ancora Austria. Ecco, come si comporta la Tripkovic in questo secolo? Allora, nella Prima Guerra Mondiale quando è arrivata l'Italia hanno avuto dei grossi problemi perché l'Italia praticamente ha svuotato le banche molte cose che l'Austria aveva comperato per i cantieri navali triestini è stata trasferita a Venezia quindi diciamo Trieste era una città conquistata non tanto cara alla patria per cui anche tutti gli armatori triestini hanno avuto problemi le navi sono state sequestrate poi con grossa pressione a parte degli irredentisti eccetera le navi sono state restituite dopo due anni o tre anni vennero restituite agli armatori purché battessero bandiera triestina quindi quelle che avevano la bandiera triestina furono restituite ai proprietari e agli armatori quindi Diodato, Martinolic, Kosulic eccetera per cui però nel momento della venuta dell'Italia beh c'è stato qualche Trieste era una città ricca era la seconda città dell'impero quando è arrivata l'Italia improvvisamente tutti quei traffici commerciali che si erano sviluppati nei confronti dell'impero venivano a cadere improvvisamente di punto in bianco quindi il problema di Trieste era che improvvisamente si trovò impoverita e quindi nacquero i primi i primi moti diciamo triestini in cui ci furono anche dei morti subito dopo la guerra perché la gente si rese veramente conto che in realtà non era una diciamo una città irredente ma era una città conquistata e gli italiani si comportavano non proprio in modo egregio poi grazie a Dio diciamo pian piano ci soffrono degli uomini molto avveduti che diciamo cercarono di uno di questi fu Fulio De Suvic ci sono dei personaggi che poi hanno fatto la grandezza di Trieste e obiettivamente bisogna riconoscere che insomma hanno lavorato bene ecco per cercare di inserire Trieste nel novero delle città italiane ecco la copertina del libro del libro di cui stiamo parlando Tripkovic raccolta di memoria di una famiglia e di un'azienda Sergio Flegal riporta l'immagine di un manifesto una locandina una locandina che ci porta a questo periodo fra le due guerre è una locandina di un autore tra l'altro d'eccellenza Argio Orel sì è del 1923 io l'ho trovata il quadro originale l'ho trovato in soffitta tra le tante cose tra i tanti documenti eccetera era messo sotto un tavolo tutto impolverato l'ho fatto pulire l'ho sistemato e poi ne avevo fatto fare 200 manifesti 200 manifesti che sono andati a ruba perché era talmente bello che effettivamente per me è uno dei più bei quadri di Orel e Orel era un famoso diciamo faceva manifesti come Dudo Viceco certo un illustratore un illustratore magnifico che più volte appunto compare nella vita nella vita triestina e non solo ovviamente triestina di questi di questi anni nel manifesto compare una flotta è una flotta di navi antiche di galere ma si trova sullo sfondo anche la moderna imbarcazione che collega quindi il Venezia in particolare per lo scafo Venezia ecco quindi una realtà che facendosi forte anche delle radici storiche anche se non veneziane come potrebbe far intuire l'illustrazione forte di queste radici sopravvive alla prima guerra mondiale sopravvive a queste crisi di passaggio di passaggio di passaggio politico di cambiamenti economici come sopravvive e come si arriva poi anche alla seconda guerra mondiale allora quel Venezia è stato costruito nel 1911 perché lui Diodato aveva ravvisato la necessità di avere anche una linea marittima che collegasse Trieste a Venezia e quindi faceva in ambe e due le direzioni una linea giornaliera come potrebbe fare un vaporetto qualsiasi questa l'ha fatto dal 1911 al 1929 lo faceva prevalentemente in estate poi in inverno magari non lo faceva non faceva così quando riteneva opportuno la metteva in moto quindi nel 29 poi è stata venduta ai giapponesi eccetera diciamo la verità la società ha avuto anche in tempo di guerra sempre degli utili è stata una delle poche società in Italia che hanno avuto utili dal 1915 praticamente della sua costituzione fino a quando è fallita ha avuto utili soprattutto in tempi di guerra perché l'attività che così molto interessante era quella del recupero navale ovviamente durante la guerra ci sono state navi da recuperare dappertutto e quindi il barone de Banfield aveva appreso l'attività di recupero navale in Inghilterra quando era stato mandato via dall'Italia era andato in Inghilterra lì aveva vissuto vicino alla baia di Scapa Flow quando le navi diciamo tedesche si sono autoaffondate e allora lì le tiravano su con questi sistemi diciamo che avevano inventato gli inglesi con queste casse molto grandi che venivano riempite d'acqua venivano affondate al lato delle navi venivano legate attorno alla nave e poi l'acqua veniva pompata fuori da queste casse ovviamente la nave veniva tirata su e quindi diciamo era era un sistema che nessuno aveva mai fatto e che poi è diventato un un classico della Trippovic quindi la Trippovic ha tirato su navi in India in Africa è stata un po' in giro per il mondo a tirare su navi che erano state affondate durante la guerra con dei bei utili anche perché e questo questi utili hanno consentito alla società di dare dividendi anche durante il periodo bellico anche durante il periodo bellico grazie al recupero navale la società di navigazione Trippovic riesce appunto a sopravvivere e a mantenere gli utili una situazione sicuramente rara per l'epoca Sergio Flegar un altro breve intermezzo musicale torneremo tra poco per altre curiosità tratte dal libro che lei ha dedicato alla società all'azienda Trippovic a tra poco la storia della società di navigazione Trippovic nel volume di Sergio Flegar Trippovic raccolta di memorie di una famiglia e di un'azienda edito da luglio Sergio Flegar lei ci ha raccontato della nascita di questo lavoro del recupero di numerosissimi documenti trovati nelle soffitte della sede del Tergesteo del palazzo Tergesteo in centro a Trieste sede appunto della società Trippovic ci ha raccontato la composizione di questa famiglia a partire da Diodato Trippovic il capostipite dell'azienda di famiglia che porta appunto il suo nome ci ha raccontato di come la società passa attraverso due conflitti mondiali ora saremmo anche curiosi di sapere in questa sua grande ricerca di documenti che l'ha portata ad avere tra le mani a conoscere documenti personali privati memorie e inediti che cosa l'ha maggiormente colpita? Allora la prima lettera che mi ha colpito è stata della sorella Maria la sorella Maria di Diodato la sorella Maria trattava Diodato come se fosse un fratello minore e gli diceva caro Diodato non pensare che la navigazione a vela sia una navigazione confacente ai tempi attuali tu prova a navigare con le navi a vapore e vedrai che bella differenza c'è e quindi diciamo questo è molto poi ha parlato della malattia del papà e poi ha parlato dei suoi della sua ricerca di un marito e diciamo queste cose qua incuriosiscono il lettore e diciamo che quello che mi ha anche emozionato sono le lettere personali della Maria moglie di Goffredo quando nel 29 scrive a Goffredo che non lo ama e non lo ha mai amato che si è sposata perché è stata costretta che la loro unione deve finire e che ciascuno prenda la propria strada eccetera questa è una lettera veramente diciamo che mi ha fatto venire i brividi dopodiché però non è successo nulla hanno convissuto ovviamente fino alla morte nella stessa villa nella stessa famiglia tutti d'amore e d'accordo apparentemente però se poi andiamo un po' a rovistare tra tutti gli altri documenti si capisce che ognuno si faceva i comodi propri ecco come in tante famiglie insomma ecco per cui sì e poi belle le lettere per esempio di Goffredo de Banfield quando per la prima volta va in Inghilterra lui pur essendo avendo i nonni inglesi non sapeva una parola di inglese e quando va in Inghilterra racconta che per lui l'inglese è ostrogoto non capiva una parola di quello che parlavano questi inglesi mi ha stupito perché diciamo io pensavo che lui conoscesse molto bene l'inglese in effetti lo parlava però quella volta quando ci è andato era giovane era appena andato via da Trieste dopo la guerra dopo la prima guerra è chiaro che non sapeva una parola di inglese ecco per cui sì sono così sono cose poi ecco quello che avevo mi era piaciuto quella lettera in cui c'era scritto che lui è stato l'unico austriaco a dare la mano al Appetiti di Roreto sì nel 1918 quando è sceso a terra e lui ha detto io sono stato l'unico ufficiale a dare la mano a Appetiti di Roreto mi sono complimentato con loro e e li ho aiutati a sminare il Golfo di Trieste in maniera che i prigionieri italiani che erano diciamo in Austria eccetera ritornassero alle loro case senza pericoli questo non lo sapevo credo sia una novità proprio storica che l'ho trovata tra le tante carte che che ho spulciato quindi tante realtà che esulano anche il mero aspetto commerciale o affaristico della della società Tripkovic questo esempio di Goffredo De Banfil soprannominato l'Aquila di Trieste l'aviatore che aveva difeso la città dai colleghi dai colleghi Sabaudi che arrivavano e facevano le loro incursioni e che dopo il primo conflitto mondiale a pochi giorni dalla fine del conflitto si preoccupa di sminare la zona per permettere il traffico il traffico marittimo dei prigionieri tante realtà tante realtà anche personali che vengono pubblicate nel volume Tripkovic raccolta di memorie di una famiglia e di un'azienda ci sono anche numerose fotografie Sergio Flegar questo diciamolo per chi ci sta seguendo ci sono lettere ci sono documenti ci sono trascrizioni e anche fotografie di originali ma ci sono le fotografie dei componenti della famiglia Tripkovic de Banfield certo 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 ci sono le fotografie dei matrimoni le fotografie che mi hanno gentilmente prestato i figli della baronessa Maria Luisa ecco mi hanno dato tutti diciamo un archivio fotografico del barone Goffredo de Banfield molto interessante diciamo che erano talmente tante sarebbe stato bello mettere tante fotografie ma insomma ho cercato di mettere quelle che mi sembravano più di impatto ecco certamente grazie allora Sergio Flegar per questo percorso di storia che ci ha fatto fare oggi in questa puntata di sconfinamenti un buon proseguimento allora e un buon proseguimento anche nelle ricerche della società di navigazione Tripkovic grazie grazie